Ciao a tutti, sono Bellandinelle e sono la titolare di The Pizza Brothers di Casa Bianca, insieme ai miei fratelli Vito e Francesco. Sono qui per raccontarvi la mia storia e farmi conoscere meglio. Se vi va di saperne di più, acquistate la voce nel dico la martedì 30 novembre o l'articolo online. Ciao a tutti e grazie!